Il prossimo brano che ascolteremo è del compositore olandese nato nel 1959, Jakob Deann, che ha composto numerosissime opere per banda, di cui la filarmonica di Bambini esegue diverse, quali Concerto d'amore, che in più tardi ascolteremo, Oregon e La Storia. Mentre adesso ascolteremo l'Universal Band Collection, una raccolta di cinque brevi opere in stile book. La prima, Western Girl, che parla di una ragazza che attraversa a cavallo le stelle... ... 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